Lo avrai, camerata Kesserling, il monumento che pretendi da noi italiani, ma con che pietra si costruirà a deciderlo tocca a noi? Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio, non coi terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità, non coi neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono, non coi la primavera di queste valli che ti videro fuggire, ma soltanto col silenzio dei torturati più duro di ogni macigno, soltanto con la roccia di questo patto giurato fra uomini liberi che volontari si adunarono, per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre resistenza. Buon 25 aprile a tutti.